Diritto commerciale, video lezione numero 14. La società semplice parte prima. In questa video lezione tratterò i seguenti argomenti. La nozione, l'oggetto sociale e la costituzione della società semplice. Capitale sociale, patrimonio sociale, conferimenti e il socio d'opera, la responsabilità dei soci, i creditori particolari dei soci e i diritti e gli obblighi del socio. Nozione, oggetto sociale e costituzione. La società semplice, disciplinata dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile, è una società lucrativa perché, come tutte le altre società di persone e di capitali, ha come scopo ultimo il perseguimento di un profitto. La società deve essere iscritta al registro delle imprese e per la sua costituzione non è richiesto un capitale minimo. La società, come previsto dall'articolo 2248, non può avere come oggetto un'attività commerciale anche se svolge un'attività economica. Tra le attività non commerciali esercitabili dalla società semplice rientrano le attività agricole, le attività professionali in forma associata, le attività di revisione legale e le attività di gestione degli immobili o di partecipazioni azionarie. Quanto alla costituzione della società semplice, questa è scandita da regole e criteri di massima semplicità. Difatti, il contratto sociale si perfeziona con la semplice manifestazione del consenso e dell'impegno reciproco dei soci a svolgere in comune un'attività economica lucrativa non commerciale. Il contratto della società semplice è soggetto alla disciplina generale dei contratti fatte salve le specifiche regole disposte dalla legge per le società in genere. Il contratto di una società semplice, tranne nel caso in cui venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale, è a forma libera e può pertanto essere validamente concluso anche per fatti concludenti. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere di provare la sussistenza del rapporto sociale, ove non formalizzato, incombe su chi allega tale rapporto. Per quanto riguarda la durata della società semplice, questa deve essere indicata nel contratto e può essere anche a tempo indeterminato. Nel caso di apposizione di un termine di durata, questo può essere prorogato sia prima che dopo la naturale scadenza. Il contratto di società semplice, come già detto, è soggetto ad iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. L'iscrizione nelle sezioni speciali aveva inizialmente effetto di mera pubblicità notizia, oltre gli effetti previsti dalle leggi speciali. Tuttavia, per le società semplici, aventi ad oggetto attività agricola, l'iscrizione ha effetti dichiarativi. In altre parole, l'iscrizione produce verso i terzi una presunzione assoluta di conoscenza che non ammette prova contraria e vale immediatamente sin dal momento stesso dell'iscrizione. La domanda di iscrizione a registro delle imprese va eseguita entro 30 giorni all'inizio dell'attività di impresa e va formalizzata nel luogo dove la società ha la propria sede legale. Capitale sociale, patrimonio sociale, conferimenti e il socio d'opera. Tutti questi paragrafi riguardanti la società semplice, tengo a precisare, sono tutti tratti dal compendio della Simone. Ritengo che siano stati fatti abbastanza bene, pertanto non ho ritenuto dover integrare con altri testi. Quindi torniamo appunto al paragrafo del capitale sociale, quindi nella società semplice il capitale sociale svolge due funzioni. Una funzione cosiddetta vincolistica sotto il profilo della determinazione dell'utile o della perdita di esercizio per ogni singolo socio aderente ed una funzione organizzativa in quanto i poteri amministrativi dei soci sono proporzionati alla parte attribuita a ciascuno nella partecipazione agli utili. In vero la legge non disciplina il capitale sociale nelle società semplici. Non è previsto infatti né un capitale minimo iniziale né è richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. Il socio non può disporre dei beni sociali per scopi extrasociali. Tuttavia l'articolo 2256 del Codice Civile stabilisce che con il consenso di tutti gli altri il socio può essere autorizzato a servirsi individualmente di tali beni per fini estranei a quelli societari. Nelle società di persone qualunque entità utile allo svolgimento dell'attività sociale è suscettibile di valutazione economica può in linea di principio essere oggetto di conferimento. Quindi può essere oggetto di conferimento non solo denaro ma anche beni in natura e crediti o anche prestazioni di opere riopera o di servizi. Il conferimento in denaro nella società semplice non richiede una particolare disciplina. Difatti il socio può versare interamente o in parte la somma oggetto del conferimento oppure può impegnarsi ad eseguire tale versamento in un momento successivo. Più complesso è invece il conferimento di beni in natura di crediti o di prestazioni d'opera. In questi casi il legislatore detta una disciplina specifica a seconda della tipologia del conferimento. Nel caso di beni in natura il contratto sociale può stabilire se il conferimento del bene avviene in proprietà o in ingodimento. A tal proposito per i beni conferiti dal socio alla società in piena proprietà è prevista l'applicabilità delle norme sulla vendita in materia di edizione articolo 1483, di vizi della cosa articolo 1490 e di mancanza di qualità promesse articolo 1497. Pertanto il socio si accolla il rischio per il perimento della cosa conferita fin quando la sua titolarità non passi alla società stessa. Per i beni conferiti in semplice godimento invece il legislatore fa riferimento alle norme che disciplinano il contratto di locazione stabilendo che il rischio per le cose oggetto dell'apporto resta a carico del socio. Nell'ipotesi invece in cui sia stato conferito un credito si applica l'articolo 1267 del codice civile che in materia di cessione del credito limita la responsabilità del cedente a quanto ricevuto. Quindi in caso di insolvenza del debitore il socio è tenuto a rispondere versando alla società una somma pari alla valutazione del credito che era stata fatta nel contratto costitutivo, oltre naturalmente versare alla società il rimborso spese, il pagamento degli interessi e l'eventuale risarcimento del danno. In mancanza di diversa pattuzione tra le parti il conferimento va fatto in denaro. Il conferimento può avere ad oggetto anche l'attività lavorativa manuale o intellettuale di uno o più soci. Dunque il socio cosiddetto d'opera assume gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri soci ma non assume lo status di lavoratore subordinato con i relativi diritti salariari e previdenziali. Il socio d'opera partecipa a tutti gli effetti al rischio di impresa e la sua prestazione viene compensata attraverso la partecipazione ai guadagni della società nella misura determinata dal contratto sociale. In mancanza di una precisa indicazione nel contratto sociale la partecipazione ai guadagni viene fissata dal giudice secondo equità. La responsabilità dei soci. La società semplice è un soggetto di diritto dotato di capacità giuridica e di agire ma non dispone di personalità giuridica. Dunque gode semplicemente di un'autonomia patrimoniale imperfetta. I singoli soci rispondono quindi solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio per le obbligazioni sociali così come previsto dall'articolo 2267. Significa che i creditori della società possono agire sia sul patrimonio sociale e qualora non sia agevole soddisfarsi su quest'ultimo essi possono escutere i beni personali dei soci. Nella società semplice la responsabilità dei singoli soci ha carattere sussidiario in quanto rileva solo nei casi in cui non risulti comodo per i creditori agire sul patrimonio sociale. È previsto altresì che la responsabilità dei soci che non amministrano direttamente la società può essere esclusa ai sensi dell'articolo 2267 mediante un esplicito patto contrario. Tale accordo è però soggetto ad un onere di pubblicità. Esso infatti deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ai sensi dell'articolo 2267, secondo del codice civile. In caso contrario la limitazione della responsabilità non può essere fatta valere nei confronti dei creditori che non ne hanno avuto cognizione. Parliamo ora dei creditori particolari dei soci. L'autonomia patrimoniale della società semplice, seppur imperfetta, sancisce il divieto per i creditori particolari dei singoli soci di aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi. I creditori particolari dei singoli soci della società semplice tuttavia hanno a disposizione vari strumenti per far valere le loro legittime pretese. L'articolo 2270 del codice civile stabilisce che il creditore particolare può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore. Il creditore può altresì compiere atti conservativi come ad esempio procurarsi un sequestro conservativo sulla quota spettante al socio debitore in caso di liquidazione della società. A queste alternative si aggiunge il potere di chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore a condizione di provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti. A tutela del patrimonio sociale vi sono però due importanti regole. La prima, il creditore particolare nel chiedere la liquidazione della quota all'onere di provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti. Seconda regola, il creditore personale non potrà agire direttamente sui beni della società ma potrà ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della quota. I diritti e gli obblighi del socio. Lo status di socio di una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso con la propria volontà alla costituzione della società. L'assunzione della qualità di socio determina l'acquisizione di obblighi e diritti. Specificamente riguarda gli obblighi. Primo obbligo, il socio è obbligato ad eseguire il conferimento promesso. L'eventuale inadempimento di tale obbligazione può dar luogo all'esclusione del socio dalla società. Secondo obbligo, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità, come già detto, può essere esclusa soltanto per i soci che non partecipino in prima persona all'amministrazione della società sulla base di un patto espresso adeguatamente pubblicizzato e messo a conoscenza dei creditori. Terzo obbligo, i soci non possono servirsi senza il consenso degli altri soci delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Riguardo invece ai diritti dei singoli soci, l'articolo 2262 stabilisce che l'associato ha il diritto di percepire periodicamente una parte degli utili prodotti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale. La mancanza di un diverso accordo, la ripartizione degli utili, deve avvenire dopo l'approvazione del rendiconto. Poi, altro diritto, la misura della partecipazione agli utili è di regola proporzionale al conferimento eseguito da ciascuno dei soci. Tuttavia, l'articolo 2263 prevede che tale norma può essere derogata da un diverso criterio di ripartizione elaborato nell'atto costitutivo. Non si possono, però, escludere i soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Tale divieto del cosiddetto patto leonino è specificamente previsto dall'articolo 2265. Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto sociale, le quote di partecipazione agli utili dei singoli soci si presumono uguali. Per il socio d'opera, se non è determinato nel contratto sociale, il valore del conferimento è neppure determinata la partecipazione agli utili, la legge prevede che la stessa sia determinata dal giudice secondo equità. Altro diritto dei singoli soci, in caso di liquidazione della società, i soci che hanno effettuato un conferimento di capitale hanno diritto ad ottenere, previa deduzione dei debiti sociali, il rimborso del suo valore. Inoltre, altro diritto, al socio, diritto importantissimo, viene riconosciuto il diritto di partecipare alla gestione sociale. Il diritto di partecipare alla gestione sociale comprende sia il potere di amministrare la società che esercitare il diritto di controllo sulla gestione della stessa.